Si potrebbe decidere il campionato? No, non penso. Penso che sia importante per ambe e due le squadre per un risultato puramente statistico. Però il campionato è ancora lungo, ci saranno altre 11 battaglie dopo, i 33 punti, quindi non penso che sia fondamentale questa partita. Certamente sarà importante per ambe e due le squadre per coesire quella fiducia necessaria per portare a termine e coronare i propri obiettivi. Mister, presentarsi al Canada di Cervinara con 10 punti di vantaggio, sia frutto di partita da recuperare, sia frutto di qualche altra cosa, però sono 10 punti. Diciamo che questo ci fa aumentare la pressione perché dobbiamo dimostrare che non siamo lì per caso, dobbiamo fare la nostra partita e giocare per il massimo risultato. Naturalmente la serenità nostra sta nell'organico, nella voglia di lavoro e di sacrificio di questa squadra che si allena sempre al 100%. Un gruppo che sicuramente sta dando tanto, un gruppo che ad inizio del campionato era considerato una buona squadra, però nessuno avrebbe mai immaginato di vederla così in alto. Merito della società, merito del tecnico, soprattutto merito dei giocatori tipo D'Andrea che fino all'anno scorso, cause e infortuni, non erano stati mai protagonisti. Questo è sicuramente il merito della società che ha saputo scopare dei giocatori che abbiano poi tanta voglia e tanta fame per fare degli ottimi campionati. Non mi limiterei solamente a D'Andrea, penserei a Folorese, Nostrale, lo stesso Petecca, tutti i Cioffi, poi gli anziani, diciamo, tra virgolette, De Rosa, Crisci, hanno sempre dato i loro contributi. Poi non ci dimentichiamo che abbiamo anche degli ottimi under che ci hanno dato, ci danno sempre una grossa mano. Passiamo a parlare del Cervinara. Cervinara, mister, che idea ha di questa squadra e soprattutto che valore dà, indipendentemente dalla classifica, indipendentemente da tutto, un valore personale? Al di là di quello che potrebbe essere la gara di domenica. Cervinara è sicuramente una squadra di caratura importante, ha degli ottimi interpreti in fase offensiva, ma anche in fase difensiva. Hanno recuperato, penso, Santo Suosso, che lo conosco da molti anni, è un giocatore di qualità, di quantità, che sa manovrare in verticale, quindi forse quello che un po' gli serviva per avere un po' più di profondità nella manovra. Hanno gli attaccanti, Demizio non lo scopro io, Pignalosa non lo scopro io, Cioffie sta facendo bene anche quest'anno, in più hanno i due centrali che sono quelli che più mi hanno impressionato in questi anni, quindi due centrali di difesa. Poi hanno Sanà con te, che è un ottimo under, forse un lusso per la categoria, quindi sarà una partita difficile, Cervinara è una squadra di livello, se si è combattata e hanno la giusta cattiveria agonistica possono mettere in difficoltà qualsiasi squadra. Chiudiamo con una domanda sui tifosi, tifosi che sembrano essere passati in secondo piano, anche perché lì a Cervinara non è sentito come derby, perché il derby per Cervinara è solo col San Martino, però indipendentemente da tutto è una festa per la Valle Caudino, abbiamo sentito i sindaci che a questo pensano. Secondo mister Facchino, cosa si chiede ai tifosi e cosa si sente di dare ai tifosi? Allora, noi ai nostri tifosi gli promettiamo come sempre il massimo impegno e il sacrificio in campo, loro sicuramente ci daranno segni di civiltà e di correttezza e di sportività come stanno facendo da quando sono io su questa panchina, quindi non ho dubbi su questi. Sarà sicuramente un gran bello spettacolo anche sugli spalti, le tifoserie sono forse le migliori organizzate della categoria, quindi ci sarà da divertirsi. Vinga il migliore. Vinga il migliore.